Da martedì prossimo in prima serata su Teletruria con le mani e con il cuore. Di che si tratterà? Parleremo delle nostre imprese, delle eccellenze delle imprese di confartigianato, del nostro territorio. Faremo un passaggio dalle imprese che si occupano di tecnologia agroalimentare, impresa femminile, imprese di giovani. Quindi andremo a toccare tutto quello che è il meglio, diciamo, le eccellenze del nostro territorio e seguendo quello che è stato il filone inaugurato con il settantesimo di confartigianato, con le mani e con il cuore. Proprio per rappresentare quello che è la nostra associazione, le imprese che ne fanno parte, che mettono tutta la loro passione, tutto il loro amore per il prodotto che costruiscono, che fanno, proprio con le mani e con il cuore. Questo è il format che vogliamo proseguire dalla settimana prossima qui con Teletruria e questo è quello che vogliamo portare, le eccellenze dell'artigianato locale della nostra provincia. In prima serata, su Teletruria con le mani e con il cuore, protagonisti confartigianato e le sue imprese, sarà un racconto emozionante, ma soprattutto ricco di spunti, perché anche per i giovani sarà l'occasione per scoprire magari un futuro professionale.